Ed ecco, siamo da D'Angelo, Santa Caterina, e stanno arrivando i campioni azzurri. Questo, sentite le urla? Questo è il van dove c'è Gonzalo Nguain. E noi adesso siamo qui in diretta per vederli imboccare la porta della festa. Ecco, ce li vedete? E' guido. Veloce però. Stanno per scendere? Sentite le urla dietro dalla strada? Stanno per scendere? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.